C'era una volta una famiglia serena e tranquilla che viveva in una piccola casa di periferia. Una sera i membri della famiglia erano seduti a cena quando sentirono bossare alla porta. Il padre andò alla porta e l'aprì. C'era un vecchio in vestiti laceri con i pantaloni strappati e senza bottoni e portava un cesto pieno di verdure. Chiese alla famiglia se volevano acquistare un po' di verdura e loro lo fecero subito perché volevano che se ne andasse. Con il tempo il vecchio e la famiglia però fecero amicizia. L'uomo portava la verdura per la famiglia ogni settimana. Scoprirono che soffriva anche di un problema agli occhi e che era quasi cieco. Ma era così gentile che impararono ad aspettare con ansia le sue visite e ad apprezzare la sua compagnia. Un giorno mentre consegnava la verdura il vecchio disse Ieri sapete ho ricevuto un grande regalo. Ho trovato fuori da casa mia un cesto di vestiti che qualcuno ha lasciato per me. Tutti quanti sapendo quanto lui avesse bisogno di vestiti dissero Meraviglioso! Erano stati proprio loro a portarli lì. E il vecchio però subito dopo disse No! La cosa più meravigliosa è che ho trovato subito dopo una famiglia che aveva davvero bisogno di quei vestiti. Cosa possiamo commentare? Che la gioia di donare è più forte della vita Ed è veramente povero solo chi non prova mai questa gioia. È meglio accorgersi di quanto si possiede allora piuttosto che lamentarsi per quello che non abbiamo. Che la gioia di donare è più forte della vita